Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura la cronaca innesima operazione alto impatto a torre annunziata controlli congiunti di polizia e guardia di finanza. Ci spostiamo a Torre del Greco per parlare delle novità che interesseranno le scuole cittadine nei prossimi mesi. Ai microfoni di TV City abbiamo ascoltato l'assessore alla pubblica istruzione del Comune Enrico Pensati. Torniamo ad occuparci del crack dei Ulemar dopo la raccolta firme partita per sostenere la proposta di legge del deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo. Arriva il sostegno all'iniziativa anche dal vicepresidente del Lanci sindaco di Ercolano Ciro Buonaiuto. Parliamo ora di viabilità, nuovo dispositivo per via Falanga e piazzale Falanga che sarà in vigore dall'11 al 15 ottobre nell'ambito dei lavori già partiti nel mese di luglio in chiusura allo sport con la Turis che si prepara ad affrontare domenica la capolista allo stadio San Nicola di Bari. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Proseguono le operazioni alto impatto nel territorio di Torre Annunziata. Ieri mattina gli agenti del commissariato Pluntino e della squadra mobile e i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza con il supporto del reparto prevenzione crimine campagna e delle unità cinofile antidroga dell'ufficio prevenzione generale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Bosco Trecase e nella zona murattiana di Torre Annunziata. Nel corso dell'attività sono state identificate 95 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 52 veicoli e contestate 13 violazioni del codice della strada. Controllato anche un terreno abbandonato di via Sepolchia a Bosco Trecase dove sono state rinvenute 37 piante di cana pendiana alte circa 2 metri del peso di circa 37 kg, 6 bustine contenenti cocaina del peso di circa 130 grammi e 114 cartucce di diverso calibro. I finanzieri hanno denunciato 4 persone per abusivismo edilizio poiché avevano alterato il manto stradale per consentire abusivamente l'accesso ai locali che per destinazione d'uso non erano adibiti a garage. Inoltre sono state contestate 13 violazioni del codice della strada per installazione abusiva di 17 di sua zona in cemento tra la pubblica via e le abitazioni private. Infine hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale in quanto trovata in possesso di un grammo di marijuana. Assessore alla pubblica istruzione Enrico Pensati, tante le novità in arrivo per le scuole a Torre del Greco tra riorganizzazione degli spazi e nuovi progetti. È una battaglia che insieme alle scuole, insieme al sindaco innanzitutto stiamo conducendo da oltre un anno. Al nostro assessorato e al comune erano pervenute diverse istanze da parte dei dirigenti scolastici, qualcuna anche datata da diversi anni. È massima l'attenzione dell'assessorato alla pubblica istruzione del comune di Torre del Greco per gli istituti scolastici cittadini. Finalmente con un atto di indirizzo vedrà la luce e la possibilità per l'istituto scolastico Don Milani e per l'istituto comprensivo Angioletti. Gli verrà con questo atto assegnata la casa custode. La casa custode per entrambi gli istituti diventeranno aule didattiche o laboratori didattici. Questo ci consente di aumentare gli spazi a disposizione della platea e quindi di andare incontro a quelle che sono le esigenze più volte che ci erano manifestate dai dirigenti. Questo percorso di riorganizzazione riguarderà anche la scuola Mazza Colamalino che già ha avuto assegnato due aule all'interno dell'ex palestra GIL. Continueremo su questa linea provando ad assegnare ulteriori aule. Allo stesso modo assegneremo due aule all'istituto comprensivo De Nicola Sasso. Tutti noi conosciamo l'odissea del plesso Orsi dell'istituto Falcone. Scauda, c'è un impegno preciso del comune in merito? Questa a mio avviso è la vera emergenza degli istituti scolastici del territorio. Tutti conosciamo quella che è stata la querelle giudiziaria che ha riguardato la scuola Orsi. Lavori che sono stati bloccati per un provvedimento della magistratura. Oggi finalmente pare che l'iter si stia sbloccando. Il comune stesso sta provando ad ottenere un finanziamento da parte della regione Campania per provare finalmente ad attivare il cantiere e ad assegnare alla scuola Orsi quello che meritatamente richiede e di cui necessita. In cantiere non solo un percorso di riorganizzazione degli spazi nelle scuole, funzionale alle esigenze dei singoli istituti, ma anche nuove sfide e progetti ambiziosi. A cominciare dal plesso Orsi dell'istituto Falcone Scauda che resta una priorità per l'amministrazione comunale da affrontare e risolvere. L'assessore Pensati ha le idee chiare. In mancanza di un finanziamento regionale sarà il comune a farsi carico di avviare i lavori con i propri fondi. Se il finanziamento non dovesse esserci riconosciuto dalla regione Campania il comune di Torre del Greco avvierà i lavori con i propri fondi, con i fondi delle proprie casse, perché siamo tutti consapevoli e coscienti che questa resta l'unica emergenza ancora del territorio di Torre del Greco. E finalmente si decide di investire anche nella realizzazione di un polo culturale nei locali dell'Ex Pretura, un centro polivalente da anni invocato da giovani associazioni del territorio. Il progetto originario prevedeva che dovessero essere lì allocate delle aule scolastiche in modo da far fronte all'emergenza Covid e quindi assegnare quegli spazi agli istituti scolastici cittadini. Con la nuova riorganizzazione che abbiamo pensato questo contenitore, quello dell'Ex Pretura può essere chiaramente liberato e messo a disposizione delle associazioni del territorio. Immaginiamo lì un centro polivalente, culturale, un polo culturale per questa città dove le associazioni che con tanto merito svolgono cultura nella nostra città possono avere anche loro una casa degna. L'amministrazione ha previsto in bilancio di spendere quasi un milione di euro. La facciamo con convinzione perché in questa città ci sono tante eccellenze dal punto di vista culturali e necessitano, ripeto, di avere una casa degna. L'Ex Pretura lo è sicuramente. Arriva anche dal sindaco di Ercolano, Ciro Buonaiuto, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il sostegno all'iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle per chiedere che il fondo per i risparmiatori venga esteso anche agli obbligazionisti truffati della De Iulemar, compagnia di navigazione, fallita nel maggio del 2012, mettendo in ginocchio l'economia della quarta città della Campania. Sostegno reso noto da Buonaiuto nel corso di un incontro con il deputato del Movimento 5 Stelle Luigi Gallo e i consiglieri comunali di Torre del Greco, Vincenzo Salerno e Santa Borriello. Nei giorni scorsi era stata avviata sul territorio una raccolta firme con un gazebo a corso Vittorio Emanuele per promuovere la proposta di legge presentata da Gallo. Io ho portato in Parlamento una proposta di legge per accedere al FIR, il fondo per i risparmiatori che è stato creato dal governo Conte per i risparmiatori delle banche. La mia proposta è molto semplice, allarga la disciplina anche a chi è stato truffato, quindi con sentenze della giustizia, che è stato truffato dalle aziende. La petizione, come disciplina anche la Costituzione, è una petizione che serve a promuovere in Parlamento e quindi in Commissione Finanze una proposta di legge, una discussione su questo tema. Nella scorsa legge di bilancio con l'ex sottosegretario del Ministero della Finanza Economica avevamo già analizzato tecnicamente che il fondo può essere capiente anche per i risparmiatori truffati. Qualora il governo quest'anno decidesse che il fondo non è capiente si può creare un fondo ad hoc. Siamo soddisfatti, commenta il deputato, del pieno sostegno del sindaco di Ercolano e vicepresidente dell'Anci, che sentirà anche esponenti del suo partito come Luigi Marattin, presidente della Commissione Finanze della Camera, per sollecitare la proposta che in poche ore ha già raccolto 400 firme di cittadini della provincia di Napoli. Il crack dei Ulemar resta ancora una ferita aperta per la nostra comunità. Le parole di Ciro Buonaiuto, il governo non può restare sordo, al grido d'allarme che arriva dalla nostra comunità. Bisogna mettere in campo tutte le azioni possibili per estendere la garanzia prevista per i risparmiatori dalle banche anche ai truffati dalle aziende. Nuovo dispositivo di viabilità per via Falanga e piazzale Falanga nel cuore dell'area mercatale a Torre del Greco. Il provvedimento, a firma del dirigente Salvatore Visone, sarà in vigore dall'11 al 15 ottobre per consentire al meglio lo svolgimento dei lavori, già partiti a fine luglio, per riqualificare e mettere in sicurezza la zona. Interventi che dovrebbero completarsi nell'arco di cinque mesi e che prevedono la riqualificazione del manto stradale, le fognature ed elementi di arredo urbano, mentre il piazzale sarà abbellito secondo i piani dell'amministrazione comunale con panchine fioriere e un albero d'ulivo. Prevista inoltre l'installazione di dissuasori e telecamere di videosorveglianza per garantire la sicurezza dell'area. Il nuovo provvedimento, necessario per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica, va ad integrare l'ordinanza di luglio con cui veniva istituito il divieto di sosta e di transito per lavori di sistemazione e riqualificazione della pavimentazione stradale e nasce anche a seguito della nota del responsabile dell'ufficio manutenzione che fa richiesta di sospensione per cinque giorni di eventuali autorizzazioni rilasciate all'occupazione di suolo pubblico. Il tutto per consentire il buon andamento dei lavori. In particolare, il provvedimento istituisce il divieto di circolazione, eccetto residenti e mezzi autorizzati, e il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 alle 24 a via Falanga e H24 a piazzale Falanga. Si avvicina il big match di domenica prossima allo stadio San Nicola di Bari. L'inatteso scontro al vertice tra i pugliesi e la Turris metterà di fronte la miglior difesa del campionato, quella del Bari, con appena tre gol subiti e il miglior attacco, quello dei corallini, andati a segno già 14 volte. Ma se per i padroni di casa il primo posto in classifica è soprattutto frutto della programmazione della società che punta decisamente al salto di categoria fallito nelle scorse stagioni, di contro il secondo posto attualmente occupato dagli uomini di Caneo, è senza dubbio sorprendente se si considera il difficoltoso finale dello scorso campionato e notevoli cambiamenti in rosa. La Turris, reduce da tre vittorie consecutive con prestazioni convincenti, arriva in Puglia con la serenità di chi sta attraversando un momento più che positivo e che non ha particolari problemi di classifica, lasciando tutta la pressione ai galletti allenati da Mignani. Mister Caneo, che causa squalifica, non sarà in panchina a San Nicola, dovrebbe puntare sul blocco che ha vinto l'ultimo match contro il Latina, sfruttando la verve realizzativa fuori casa di Santaniello, che fino adesso ha siglato le sue reti tutte lontano da Torre del Greco. La partita è in programma domenica con fischio di inizio alle 17.30, con diretta sia streaming che sulla TV satellitare. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail alla nostra redazione, all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Con questo è veramente tutto, buon fine settimana, l'informazione del Tg di Tipo City vi dà appuntamento lunedì.